Ci torno, aspetta, aspetta, torniamo anche da lei. Non mi consente di dire una cosa? Un flash. La dottoressa Fusani, che parla sempre in tv della mattina e della sera, come un suo collega mi ha contestato che io dicevo cos'è Bambera, l'ultima volta un suo collega mi ha contestato di chiedere la sospensione dei brevetti su vaccini, erano due mesi fa in questa trasmissione, poi la chiesta persino il presidente degli Stati Uniti. Vuol dire che forse la sinistra radicale e i movimenti sociali propongono delle cose che sono sensatissime, ma purtroppo che il conformismo dominante della politica tiene fuori dal dibattito pubblico. Io mi ricordo questa discussione, la faccio una piccola postilla, è stata chiesta, è stata avanzata una proposta dal presidente Biden, mi pare di capire, come tutti sanno, che non si andrà verso una moratoria dei brevetti. Per colpa dell'Unione Europea. Tanto per capirci, eh. Ma adesso, per colpa dell'Unione Europea. Però così io vorrei che tutti parlaste con un attimo di ordine. Allora, Acerbo ha spiegato...